Siamo qui alla manifestazione nazionale dei nostri marittimi che chiedono che il governo dia delle risposte a questo settore. Bisogna sapere che c'è una normativa comunitaria che dovrebbe già essere applicata in Italia dove a fronte di incentivi fiscali le società armatoriali debbano occupare personale in parte italiano e comunitario e rispettare delle proporzioni. Purtroppo per sfruttare il lavoro a bassissimo costo accade che queste proporzioni di fatto non vengono rispettate e la normativa per inadempimento anche del governo non viene applicata nel nostro paese. Questo comporta che i nostri marittimi vengano licenziati, venga assunta una manodopera sfruttata a bassissimo costo e anche le società che vogliono stare sul mercato rispettando le regole e dando occupazione ai marittimi italiani si trovano in difficoltà perché si ritrovano dei concorrenti che sottopagano il lavoro e tra l'altro sfruttando anche la manodopera e non garantendo peraltro condizioni di sicurezza giuste sulle navi. Qui oggi ci sono migliaia e migliaia di marittimi con le loro famiglie, con le loro famiglie, con bambini e tutti, siamo a più di 2200 persone, oggi stiamo dando un segno tangibile a questi signori, alla Confidarma che è la Federazione degli Armatori che imbarca ancora sulle navi italiane e personale extracomunitario. Questo è un fatto importante perché noi lo stiamo denunciando da tempo di questo fatto. Oggi siamo stanchi e questo lo dimostra perché la disoccupazione nel sud Italia è dilagante. Allora che cosa aspettiamo? Di dare in mano alla criminalità organizzata a questi giovani. La legge 3098 è stata stravolta, quindi noi chiediamo di nuovo di rivedere questa legge e che nessuno ostacoli quello che è stato già stipulato. Il Movimento 5 Stelle sta ponendo il tema dal 2014, quando ha presentato una mozione per indicare diversi punti per risolvere il problema del lavoro sul mare, perché qui ci sono governi che hanno abbandonato un settore strategico del paese, l'hanno abbandonato perché rendono il lavoro marittimo un lavoro ad ostacoli, anche solo per la formazione. Addirittura i lavoratori devono fermarsi mesi e mesi a terra senza poter imbarcare e quindi essere retribuiti per fare una formazione a pagamento, mentre in altri paesi fanno magari dei tirocini a bordo e agevano molto di più tutto il processo. Quindi qui sembra che sull'altare di qualche accordo internazionale il settore strategico del mare sia stato venduto magari a qualche altro paese in cambio di qualche altro asset del territorio. Del Rio in quattro anni non ha detto una parola sui lavoratori del mare. Noi siamo una penisola, siamo toccati tre parti su quattro dal mare e sembra assurdo che rinunciamo a un asset strategico come questo, che è un made in Italy di competenze, è un made in Italy di capacità, è un made in Italy di professionalità che dobbiamo riportare di nuovo a livello alto. Il tempo di Del Rio e di questo governo sta scadendo.